Scrittura di una proposta LIFE. Cosa fare e cosa non fare. Lo strumento LIFE è l'unico strumento finanziario europeo diretto e dedicato all'ambiente. Dal 1992 ha finanziato più di 4.000 progetti, investendo 4 miliardi di euro per la protezione dell'ambiente. Di questi 4.500 progetti, oltre 800 sono progetti italiani. Gli enti pubblici e le imprese sono stati i principali beneficiari di LIFE. Il Bando 2019 è aperto da metà aprile a metà giugno 2019. La selezione per il Bando 2017 si è conclusa e i progetti sono già stati avviati. I beneficiari possono essere sia pubblici e sia privati. I progetti durano in media 4 anni e sono cofinanziati dall'Unione Europea fino al 55%, ma in certi casi si può arrivare anche al 75%. Il Bando è annuale ed è strutturato in due fasi, presentazione del concept note e presentazione del progetto, full proposal. Il partenariato internazionale è facoltativo, ma è consigliato. È possibile presentare i propri progetti anche in lingua italiana. Per la selezione sono necessari circa 8 mesi, con un successo di circa il 13%. L'obiettivo è quello di attuare esperienze o metodi pilota per migliorare la natura e l'ambiente, che possono essere quindi replicati e trasferite in altre aree d'Europa con gli stessi problemi. Il programma di LIFE riguarda priorità, allocazione di risorse tra gli interventi e gli interventi per il periodo, con infine la possibilità di creare massa critica in tematiche specifiche. Il programma di lavoro è preparato dalla Commissione europea, consultando gli Stati membri. Il programma è anche il primo documento da consultare per verificare se la nostra idea è finanziabile dal progetto LIFE. I proponenti possono leggere i temi prioritari nel periodo, senza aspettare il bando. Una volta che il bando è aperto, invece, è sufficiente leggere le linee guida. Nel programma di lavoro sono state introdotte alcune novità. In particolare sono stati recepiti i recenti sviluppi nella politica dell'Unione europea, quali il piano d'azione per l'economia circolare e il piano d'azione per la natura, i cittadini e l'economia. Per quanto riguarda il sottoprogramma Ambiente, è variato il numero di temi di progetti, che infatti è stato ridotto da 87 a 42, ed è stata posta maggiore attenzione a orientare i candidati verso le priorità politiche dell'Unione europea. Infine, c'è stato un riorientamento dei temi dei progetti governance ed informazione su specifiche questioni relative alla sensibilizzazione e alla governance. Alcune fra le novità sono anche il valore aggiunto europeo in termini di impatti quantitativi e benefici, la replicabilità e la trasferibilità dei progetti, la sostenibilità a lungo termine, sempre dei progetti, e l'orientamento maggiore ai risultati, andando a creare dei Key Performance Indicator, l'indicatore di performance dell'impatto. Infine, è stata introdotta la selezione a due fasi. La selezione a due fasi avviene nel seguente modo. Viene prima presentato il Concept Note. Una volta valutato in maniera positiva il Concept Note, è possibile inviare la proposta completa, Full Proposal. Una volta valutata in maniera positiva anche la proposta completa, è possibile passare all'esito e alla negoziazione. Infine, si conclude con approvazione e firma dell'accordo. In questa schermata è possibile valutare e vedere quali sono i principali temi del Concept Note e del Full Proposal. In entrambi i casi sono divisi in due parti, la parte amministrativa e la parte tecnica. Molto importante è la scelta della strategia per definire obiettivi inclusi ed esclusi, interessi degli stakeholder e massimizzare l'uso delle risorse. Uno fra gli errori più comuni in cui si può incorrere è la scarsa descrizione dell'attuale situazione nell'area di progetto, senza approfondire il valore aggiunto a confronto con i progetti simili in corso o passati. Un altro errori comune è la mancanza di un realistico piano strategico che comprenda azioni concrete e un'assenza di indicatori specifici per misurare i risultati attesi. Infine, un basso rapporto qualità-budget allocato. Il progetto è quindi un compromesso basato su tre punti chiave, le regole dello strumento LIFE, il contesto e cosa vorremmo fare. Il principale suggerimento è quello di cercare di soddisfare appieno i criteri di selezione, anche se questi impongono dei limiti. Numerose sono le figure necessarie allo svolgimento del progetto. In aggiunta al coordinatore di progetto, sono richiesti figure chiave in ruoli amministrativi e tecnici. Il partenariato ideale di un progetto prevede il coinvolgimento di enti pubblici, università, associazioni ed imprese. Al fine di progettare e valutare con buon senso, ci si affida all'approccio del quadro logico, detto anche AQL o Logical Framework Approach, che va affiancato da competenze tematiche e tecniche. Le fasi dell'approccio del quadro logico prevedono un'analisi di problematiche, obiettivi e strategie, ma anche una definizione delle fasi di progettazione, definendo struttura, attività e spesa.